Stasera voglio parlare un po' della vostra autorità che avete in Cristo. La vostra autorità è una grande arma contro il nemico, lo sapete? Alcuni cristiani quando accettano la salvezza si contentano di sapere che vanno in paradiso e basta, ma c'è molto di più, lo sappiamo, giusto? Alcuni invece quando sono convertiti la vita non cambia tanto, magari si lamentano sempre, magari vivono sempre con disperazioni, lamentarsi, magari negatività. Ma sembra che non sono diversi al mondo, no? Io penso che il problema in tanti casi è che non sanno l'autorità che hanno, è per questo. E forse tanti sono come, magari voi siete come me, sapete che avete l'autorità, l'avete sentito dire, l'avete letto che abbiamo l'autorità, però magari pensate ma dov'è? La voglio vedere nella mia vita, perché non la vedo nella mia vita? E questa è la cosa che ho pensato io ultimamente, Dio mi ha fatto capire che tanti volte quando non lo vediamo il problema non è nella parte di Dio, no? È della parte nostra e dipende di noi di seguire, di capire per quale motivo non lo vediamo. Allora io ho fatto un po' di ricerca su questo argomento e voglio condividere un po' con voi. Allora, anche voi volete seguire questa cosa? Volete anche voi sapere un po' dell'autorità? Siete con me? Ammè! Ok, allora Gesù faceva tutto con l'autorità, tutte cose, quando pregava, quando predicava, quando insegnava, tutto era con l'autorità. E infatti si vede nella Bibbia tante volte che i farisei gli chiedevano ma dove è preso questa autorità? E vi voglio dire che noi che scegliamo di seguire Gesù avremo anche questa domanda chiesta a noi, dal nemico, eh? Ok? Preparatevi perché succede e poi ti dici anche a tu che pensi di essere, vero? E dobbiamo ricordarci che lui vuole solo farci sentire piccolini, ci vuole sentire senza speranza, ci vuole far sentire inutili, ok? E senza speranza. Però dovrete sapere che la vostra autorità è una grande arma incontro di lui, ok? Allora, conoscendo questa cosa vi posiziona con vittoria, già in posizione vittoriosa, ok? Se non conosci la tua autorità sul nemico, gli dai il permesso di avere l'autorità su di te. Ogni volta che non sappiamo la verità di chi siamo, di chi è Dio, di cosa ha fatto Dio per noi, in noi, gli diamo, ci mettiamo d'accordo con le bugie che ci dici il nemico, ok? Invece di essere d'accordo con Dio, ci mettiamo d'accordo con il bugie, non la verità. Allora è molto importante sapere la verità, giusto? E allora, quando ci mettiamo d'accordo con Dio, abbiamo questa potenza. Perché dovete sapere che siamo seduti, come ha detto i pastori prima, nei luoghi celesti, ok? Questa è la nostra autorità, siamo seduti con lui, siamo insieme a lui, cioè non siamo più noi che viviamo, è lui che vive in noi, giusto? E allora siamo uniti così, io in lui, lui in me, ok? E di quelle posizioni, seduti nei luoghi celesti, abbiamo autorità di tutte le cose, siamo in sopra di ogni circostanza. E di quella posizione abbiamo diritto di entrare nel santuario. Dio ci ha chiamato generazione eletta, una reale sacerdozio, una gente santa e sovrani. Questi siamo noi. Quando Gesù ha mandato fuori i dodici, i dicepoli, gli ha dato l'autorità e potenza sugli spiriti, i mondi e per guarire tutte le malattie, giusto? E questa è la stessa autorità che abbiamo anche noi. Infatti Gesù ha detto che faremo non solo quello che ha fatto lui, ma anche di più, ok? E ci vuole autorità per questo. Allora, ricordatevi, vi voglio ricordare che avete l'autorità sul peccato, avete l'autorità sulle malattie, avete l'autorità sui demoni e anche su di ogni pensiero che vi entra in testa, ok? Ogni cosa che vedete che non fa parte di voi avete l'autorità di toglierlo. Allora vi incoraggio con questa cosa e vi dico che vi incoraggio di fare anche voi una ricerca, come ho fatto io, questo è poco, però vi incoraggio di cercare anche voi risposte e così capite di più che avete una grande arma incontro inimico, ok? Grazie! 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 Grazie!